ciao a tutti oggi mostrerò come realizzare una golosa torta o ciambella ancora ci devo pensare non lo so che forma gli darò senza glutine ingredienti che vi occorreranno saranno zucchero vani estratto vaniglia le uova il lievito il burro o margarina un pizzico di sale e la farina del riso per prima cosa versiamo nella terrina tutto il burro o la margarina quello che sia morbido e tutto lo zucchero cominciate a lavorare dovete ottenere una cremina uno alla volta inserite anche le uova continuando a lavorare il composto aggiungete qualche goccia estratto vaniglia e continuate a lavorare con un pizzico di sale setacciate la farina e il lievito e continuate a lavorare il composto dovrà essere bello cremoso imburrate ed infarinate uno stampo quindi versate tutto il vostro composto così livellate per bene e adesso potete arricchire la vostra torta facoltativo con pezzi di pesca io non avendo tutte le pesche gialle alla fine ho dovuto mettere due pezzettini di pesca bianca ma alla fine il risultato sarà ottimo lo stesso adesso inforniamo quindi portiamo in forno a 170 gradi forno precedentemente preriscaldato statico per circa 50 minuti grazie a tutti grazie a tutti ciao